Dakota Johnson è stata scelta da intimissimi come nuova testimonia Bellissima e sensuale, l'attrice e modella di origini francesi Dakota Johnson sta vivendo un momento molto positivo per la sua carriera. Dopo aver vestito i panni di Anastasia Stelle nel film 50 sfumature di grigio, primo capitolo della trilogia cult dei romanzi della scrittrice inglese e James, la Johnson è stata scelta anche dal celebre brand Intimissimi come nuova testimonia. Il nuovo successo targato Intimissimi. Il famoso brand Intimissimi non sbaglia mai un colpo, le sue campagne pubblicitarie sono sempre impeccabili, esattamente come la scelta delle testimonia. In quest'ultima occasione infatti il brand ha deciso di investire su Irina Shaikh, Ana Ivanovi, Ella Mills e Dakota Johnson. Immortalate dal talentuoso fotografo Mario Testino, tutte le testimonial compaiono con indosso il loro outfit, da qui deriva l'hashtag scelto ad hoc cancelletto in sede Andut. La Johnson è stata ritratta con indosso un sensuale abito in satin rosso, che rievoca molto 50 sfumature di rosso. L'attrice è apparsa più intensa che mai, con i capelli morbidamente sciolti sulle spalle, un rossetto rosso e l'incarnato luminoso, impossibile non rimanere conquistati dal suo fascino magnetico. Dakota Johnson e la sua carriera da star. Figlia di Melanie Griffith e nipote della musa di Alfred Hitchcock Tippi Henry, Dakota Johnson fin da bambina ha avuto a che fare con il mondo dello spettacolo, rivelandosi una bambina prodigio. Il suo fisico slanciato, unito ad un viso dai lineamenti angelici e romantici, le conferisce un tocco di sensazione. La sua sensualità e raffinatezza assolutamente indimenticabile e sono molti i registi che hanno deciso di averla sul loro set. La Johnson inoltre ha piena consapevolezza della sua femminilità e in più occasioni si è mostrata senza veli, non perdendo mai il suo stile unico e sofisticato. Durante lo show di Gucci, in occasione del Festival di Cannes, ha indossato un abito scollato senza reggiseno, l'attrice ha incantato tutti, apparendo intensa come non mai, e per nulla volgare. Nel mondo dello spettacolo, in più occasioni, ci sono state polemiche e critiche verso alcuni personaggi accusati di essere troppo sfrontati, esibendo look aggressivi e ben poco adatti alle situazioni. Questo non è certo il caso di Dakota Johnson che possiede il valore unico della naturalezza, seducente e accattivante, la figlia di Melanie Griffith ha riscosso un notevole successo tra il pubblico e gli addetti ai lavori, rivelandosi impeccabile durante ogni evento pubblico. Nonostante la giovane età, l'attrice e modella di origini francesi ha mostrato di essere pronta a costruire una carriera ricca di successi, dimostrando di meritare la popolarità che possiede già dalla nascita, essendo figlia d'arte di una grande star. Sono tantissimi i fan che la sostengono, sempre pronti a seguire tutte le sue ultime novità lavorative, come la collaborazione con Intimissimi, la sua ascesa all'Olimpo del cinema e della moda e solo agli inizi. Grazie a tutti!